ciao ragazzi oggi video velocissimo voglio ringraziare tutti i 2000 di voi che si sono iscritti al mio canale oggi sono sul passo del tonale sto andando a brescia per fare un po di sano enduro fa un freddo bestiale non è troppo tardi anzi è abbastanza presto andiamo a vedere qua c'è il mio mostro esattamente sono le 8 e 45 di mattina ci sono due gradi ragazzi due gradi sto la mano che tiene il simbale praticamente congelata giusto un aggiornamento dato che siamo qua a livello di abbigliamento tutto perfetto giacca e pantaloni non ha freddo per niente sono sotto in maniche corte anche se ho una maglia di cambio dietro invece per quanto riguarda i guanti adesso sto un po patendo anche con le manopole riscaldate al massimo fa un po freddino comunque adesso scendiamo andiamo a trovare i ragazzi del tassello monello e ci buttiamo in off road ciao grazie ancora per i 2000 iscritti